Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo video e si tratta oggi di un gioco che si chiama White Finger. Il gioco consiste nel cercare una chiave e uscire. Questo è il massimo che possiamo sapere. L'hai visto da Trombon? Sì, l'hai visto da Trombon. Io invece no. Ok, niente, il gioco, da quel che ho letto nelle istruzioni, consiste nel cercare una chiave e uscire. Nel frattempo c'è qualcuno che ci segue per ucciderci. Intanto proseguiamo. Dunque, la sensibilità mouse è che guardarsi intorno, praticamente devi spostare due chilometri il mouse per riuscire a verti intorno. E invece l'andare avanti e indietro, was da con lo shift. Tutto ormai? Che? Corri, cazzo! Corri! Non corre! Intento. Dov'è? Eh? Allora? Abbiamo conosciuto il nemico, ma era la stanza alla svelta. Allora? Se è tutto così, io mi cago l'osso. La chiave. Bisogna trovare la chiave. Ma mi hanno detto che c'era un tipo che si seguiva, ma non pensavo che fosse così. È là! È là! Wow! 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 La musica però c'è, eh? È più bella la musica del tipo che si segue. Allora, non c'è più. Io devo trovare una chiave. Una chiave. È qui! Lo schivo, lo schivo, lo schivo! Sì! E lei, cazzo, non mi fa passare lo strozzo! Se no, se tu per esempio è il problema. No, mi ero bloccato contro... Mi ero bloccato contro la porta. Ci riproviamo. Se la chiave è sempre nello stesso punto, forse... No! No? Teniamo la corsa per quando ne abbiamo bisogno. Ma va... Questa è una stanza grande! Corro! Dov'è? Wow! Ce l'ho di fianco! Corro, corro! Corro io, eh! Di qua è la mia pianta, corre? Sinistra! Corri, faccia la merda! Allora... Adesso devi andare in una stanza grande. Stanza grande! L'ho capito, lo so. Se lui è qua, però, se non lo piglio in culo. Corri. Allora, no, non corro, perché se no dopo non ho più la corsa quando devo correre. Aspetta, è di qua la stanza grande. Eccola qua. L'uscita dov'è? È là, è là l'uscita. Corri, dai! Là! Vai, corro! Corro, corro! 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 Ce l'ho fatta, sono uscito! È bel finale, così? Tutto qua? Ok, ragazzi, abbiamo finito Whitefinger. Molto bello! Bel gioco, bellissimo! Bellissimo! Lo rigiocherei milioni di volte! Dunque, abbiamo fatto... Cinco minuti, più o meno! Cinco minuti di gioco... Vabbè! Senza tagli! Senza tagli! Niente, questo era Whitefinger! Un bel gioco di merda! Niente, noi vi salutiamo, ci vediamo in un prossimo video, sperando che sia un pochino più lungo di questo, perché veramente è stato... Però, Whitefinger è questo, noi ci accontentiamo! Ok, ciao! Ciao a tutti! Ciao ciao! Ciao a tutti!